Siamo in una nuova challenge, avete capito bene, una nuova sfida molto bella, allora praticamente ora se prendiamo danno, prendiamo danno e non recuperiamo vita, cioè nel senso anche se mangi non recuperi vita, cioè qualsiasi cosa farai non recupererai vita, quindi dobbiamo stare attentissimi, perché se moriamo in questo episodio abbiamo perso, porca miseria, noi non vogliamo perdere, giusto noi? Nel senso, dobbiamo prendere questa cosa come una sfida reale, dobbiamo cercare di vincerla e appunto cercare di fare va... Stavo per dire una brutta cosa, perché questo legno schifoso, ok, e dico solo questo legno schifoso, io stavo continuando a cambiare legno, non so se avete fatto caso, e mi stavo leggermente nervosendo. Comunque adesso possiamo... vedete qual è il problema però di non avere amici? Cioè quando tu hai amici, ok, che fanno i video, tu puoi dire, eh scava il legno e poi dammelo, invece, invece, quando non hai amici nei video, e non puoi farlo, devi scavare tu da solo, e io vi annoio facendo così, ma abbiamo comunque preso del legno. Ed ora posso prendere sicuramente la crafting table ed iniziare a comportarci in modo tale da essere al protetti, cioè praticamente dobbiamo stare attenti, dobbiamo sfruttare, no, tutte le cose, per esempio, dobbiamo sfruttare le caverne, no, per poterci proteggere meglio. Dobbiamo sfruttare, per esempio, dobbiamo prendere, dobbiamo avere un sacco di materiali belli, poi dobbiamo prendere... no, però gli animali... vabbè, ovviamente gli animali dobbiamo prenderli, eh. Però, però, dunisiani, eh, non, 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 non servirà niente, perché se moriamo, eh, cioè nel senso, se prendiamo, eh, se perdiamo, diciamo, se prendiamo danno, ecco non mi veniva la parola, perché Dunis è al cervello tutto quanto contorto, ha il crampo al cervello, non so se avete idea, non so se avete presente. Intanto io sto scavando pure... ma avete notato che è il melone, scusate? Ora... oh mio Dio, ma ci ho appena fatto caso, il melone fa lo stesso suono del legno, quello là. Cioè, io... vabbè, ok. Minecraft molto bello. Ebbè, ma queste erano le vecchie versioni di Minecraft, quando aggiungevano gli stessi suoni per le stesse... per cose ovviamente completamente diverse. Comunque, vabbè, questo non è importante. Allora, io stavo pensando di trovare una caverna, però, la caverna, dove caspita sta? Domanda delle domande. Mmm, perché dobbiamo prendere la pietra, non per altro. Ecco, tipo, là c'è un ocelot, però noi l'ocelot non ci interessa, per ora. Poi magari, non si sa, ecco, dobbiamo stare attenti, perché se cadiamo da qua da un albero e prendiamo danno, non possiamo recuperarlo, cioè nel senso, proprio non ci si recupera, perché è una caratteristica, no, di questa modalità. Cioè, proprio l'ho messa così io, ne sono sicuro, non si recupera. Eh, quindi potremmo morire da un momento all'altro. Porca miseria, stai zitto tu, pappagallo. Ehm, comunque guardate là, ci sono gli acciai. Ok, devi andare da quella parte, assolutamente sì. Eh, però dobbiamo sbrigarci anche perché se arriva la notte... Ah, scherzavo. Vabbè, comunque, se arriva la notte noi dobbiamo essere già protetti, capite? Non è che possiamo, diciamo, rischiarci. Eh, perché se ci rischiamo poi dopo moriamo e non va bene, tunisiani. Porca miseria, non va bene affatto, affatto. Eh? Canto pure, no? No, scusate, qua non c'è, non si vede... Dai, perché? Ma non si vede niente. No, 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 no. Ritorniamo su, ritorniamo immediatamente su perché non si vedeva niente. Ma proprio il zero più totale. Zero di zero di zero di zero, proprio. Porca miseria. Anzi, prendiamo altra pietra, però, perché ci serve la pietra. Ok, però adesso ci dobbiamo fare, diciamo, gli attrezzi noi in pietra. E poi dobbiamo trovare anche del ferro per farci l'armatura, perché dobbiamo essere il più protetti possibile, porca miseria. Perché se no non... cioè, com'è che facciamo? Cioè, me lo spiegate? Perché se moriamo, moriamo per... cioè, a parte che perdiamo. Cioè, nel senso, se moriamo, abbiamo perso. È fine, cioè, nel senso, non è che ci sono altre, altre cose che possiamo fare. Perché ho fatto la fornace? Ah, perché ho il cervello contorto, ho i crampi al cervello. Io ve l'ho sempre detto. Dai! Su, con questo piccone! No, ma state scherzando, non ho più il legno. Dai! Seriamente, non ho più il legno. Ah, ma il legno ce l'avevo. Vabbè, donizia, niente. Cioè, mi sa che questa modalità la perderemo. Cioè, sono completamente stupido. Oh! Mi schiaffi, porca miseria, perché sto dormendo come le scrofe nel pollaio. Eh? Non so perché le scrofe... Vabbè, fate finta di non aver sentito niente. Là c'è un pappagallo che, boh, sta avendo delle convulsi... Cioè, nel senso, non so cosa sta facendo. No, nel senso, non per off... Senza offesa, assolutamente. Cioè, nel senso... È una brutta cosa, quello, eh? Mi raccomando, non... Stiamo seri su certi argomenti, perché sono importanti. Però! Però! Adesso dobbiamo trovare delle cose. Che cosa? Ah, giusto, dobbiamo andare da quella... Porca... No, donizia, donizia... Allora, porca miseria, però... Allora, non è possibile, cioè, nel senso, voglio morire, praticamente. Voglio andare a sbattere la testa contro il... Muro e morire per sempre, non lo so. Perché, allora, non è possibile, cioè... Allora, esplodo direttamente, faccio così... Eh, eh, perché? Cioè, scusatemi, non è... Cioè, eh... Allora, facciamoci una barca immediatamente, perché così almeno viaggiamo. Ah, e già che ci siamo, oltre al fatto che sono idiota, vabbè... Cioè, questo si sapeva già, no? Già che ci siamo... Cioè, poi non è possibile, ma mi sta tremando la mano. Cioè, ma vedete che allora sono proprio idiota io. Vabbè, chi se ne frega della crafting table, non ho più voglia di tenerla. Andiamocene via per sempre. Allora, adesso andremo verso quella terra lontana, dove ci sono le cose brutte. Perché le cose brutte esplodono, come i Creepers, gli zomboidi, gli scheletroidi. Non era... Ops, non era... Non era intenzionale questa cosa. Sembrava una brutta cosa, ma... Allora, se... Non è colpa mia se capite cose brutte voi, eh. Però, cioè, fatemelo dire. Però, almeno abbiamo trovato del carbone. Dai, sono contento, perché così almeno sapete cosa possiamo fare? Questo episodio sarà completamente a scavare e a prendere legno. Vabbè, molto, molto bello. Scherzo, ovviamente non sarà così. E adesso, infatti, la prova è che andremo via da qua. Perché, se no, poi dopo... Cioè, giustamente voi vi annoiate e dite, ma Duny, ma che papole... Eh, e non si fa. Eh, porca miseria. È su... È su, no? Allora, quindi, dopo aver detto una cavolata che ho dovuto tagliare, perché, se no... Eh? Cos'è successo? C'è uno zombie qua. Perché, se no, appunto, cioè, nel senso, non è che posso lasciare tutte le cavolate che dico, perché... Eh? Abbiate pazienza, no? Allora, qua c'è la jungla ancora. E a me non piace la jungla. Quindi... Quindi, andremo prima di tutto a prendere del cibo, perché a me qua già sta finendo il cibo. E questa cosa è una brutta cosa, perché se finisce il cibo, siamo finiti noi. Eh, non è bello quando finisce il cibo. Porca miseria, non lo è affatto. Però, adesso, dobbiamo cercare di andare nel posto giusto, al momento giusto. Chi c'è? C'è qualcuno! C'è entrata qualcuno! Rieccoci qua! Allora, ho perso vita, perché, ovviamente, ho dovuto tagliare, quindi, praticamente, eh, sì, ho dovuto tagliare il video, perché era successo qualcosa nel frammentre, mentre... perché, giustamente, no? Eh, quindi, quindi, eh, pensate voi, adesso sono morto. No, cioè, nel senso, ho perso due cuori. Infatti, adesso, se vedete, la vita non si sta rigenerando. Questo potrebbe essere un piccolissimo problema. Ma io ci speravo fino in fondo, ho detto, magari la vita si rigenera, e invece no. E invece no. E beh, questa è stata una mia svista. Vedete, vedete, però è molto pericoloso, perché adesso, se non troviamo cibo, o altre cose... Siamo morti, ok? No, però, scherzavo, nemmeno col cibo si rigenera. Come non detto. E niente, saremo morti. No, scusate, cos'è quella roba? No, dai, dunisiani, perché? Non mi dite che è entrato in... Ah, ok, no, 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 ok. È per la 1.16, non pensate cose strane, perché è per la 1.16, praticamente. Qua, nella 1.16, per chi non lo sapesse, ci sono queste cose, no, dei portali del nether. Che, ovviamente, noi non andremo nel nether, perché già io sto per morire qua. Figuriamoci nel nether. Eh, cioè, senso... Poi qua devo uccidere i maialini, perché se no... Ma allora, maialini... Eh, grazie. Molto gentili. Poi, i polli, pure i polli, mamma mia. I polli... Sì, però sta laggando tutto, ma che cos'è successo? Ma avete visto? Cioè, avete visto che il pollo era volato dall'altra parte, si è teletrasportato. Questo pollo usa i cheat! Non sono concessi cheat! Noi dobbiamo essere legali, pure i polli, però i polli non sono legali, perché sono creature brutte. Eh? Allora. Comunque. Scherzavo, comunque. Non prendetevela con i polli, nella vita reale. Ah, che schifo! Sta... c'è la notte. No. Eh, in effetti fa davvero schifo la notte. Però adesso possiamo costruirci un posto. Eh, allora no, scherzavo. Adesso mi do la night vision. Ok! Perfetto, ora ho la night vision. Eh, però non posso... Ecco, ci vedete già là? Ci sono delle cose brutte che... Allora, dobbiamo evitare immediatamente quella parte di mappa che schifono. Ecco, abbiamo trovato il villaggio, vedete? È molto bello. Però noi adesso dobbiamo andarci in immediatamente, perché sennò questo zombie ci uccide. Non vogliamo questo, giusto? Noi doniziani, noi vogliamo sopravvivere. E quindi dobbiamo andarcene in quel villaggio strano che abbiamo anche trovato un villaggio. E sì, se vedete tutto quanto luminoso è normale, perché ho la night vision. Però, però, ovviamente... Porca miseria, c'è uno scheletro. Però è notte, eh? È notte brutta la notte. Cioè, nel senso, è brutta perché adesso spawnano le cose brutte come... Gli scheletri, gli zo... I creeper. I creeper, vi ricordate, no? Voi... Io ho un brutto rapporto con i creeper. Mi scusi, signor villager. Grazie del... Del suo... Della sua varia cibaria, eh? Cosa è che ho detto? Non... Non... Non so, non so, veramente. Sto impazzendo. Comunque, signor villager, lei è proprio antipatico, quindi adesso la devo uccidere. Allora, allora, si sposti immediatamente perché sennò dopo mi nervosiscono. Non va bene. Ok, perfetto. Devo dormire io. Questo villager sta facendo brutte cose che non si possono nemmeno vedere su YouTube. Comunque, meno male che è uscito di casa. Però, vabbè. Ok. Però, almeno è giorno, no? Almeno è giorno. Siamo vivi, no? Di giorno. Allora, porca miseria. Dovevo... Dovevo uccidere questo ragno. Eh, stiamo attenti. Eh, stiamo... È tutta pazzo, tutto pazzo, tutto pazzo. Eh, no. Santa Marianna delle rose. Non so cosa ho detto. Vabbè, fate finta di niente. Beh, io sono... Sto impaziente. Allora, quindi, adesso, abbiamo praticamente finito. Cioè, è finito l'episodio. Bene. Cioè, nel senso, abbiamo finito il tempo, no? Abbiamo finito tutto quanto. Là ci sono i creeper e cose che io ovviamente non andrò ad uccidere perché... Nel senso, non è che voglio morire, no? Cioè... No, in realtà, visto che... Ma sapete cosa? Visto che abbiamo finito l'episodio, io direi che qualche cosa la possiamo anche rischiare. Tanto ormai questa sfida l'abbiamo già vinta, no? No? Cioè, nel senso... Oppure potremmo fare quanto sopravvivo, eh? In questo mondo dove non posso recuperare vita. Eh, sarebbe bello. Certo, darebbe un po' fastidio, no? Però, cioè, darebbe fastidio non recuperare vita, no? Perché ovviamente uno, quando mangia, di solito recupera vita. Però, porca miseria, sarebbe bellissimo. Poi qua ci sono i clerici. Fatemi sapere se volete questa cosa. Cioè, di provare a sopravvivere in questo mondo, no? Anche se... Anche se... Non recupero vita. Così vediamo per quanto sopravviviamo. Secondo me, già al secondo episodio siamo morti. Perché poi, tipo, quando andiamo nel nether. O, tipo, nel land. Cioè, siamo finiti, praticamente, là. Cioè, io ve lo dico. Siamo finiti. Vabbè, comunque, grazie per aver guardato questo video. È stato molto bello. E... C'è stato un rumore molto brutto qua. Ah, mi sa che c'è un elicottero e quindi... Ovviamente, quando Duny si registra, deve succedere la fine del mondo. Anche gli elicotteri si devono... Praticamente, vabbè, lasciamo perdere. Perché qua... Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete... TAPPO! Il tappo dell'evidenziatore. Tappo, scrivete tappo. Quindi, e... Ci vediamo al prossimo video. Ciao, duniziani. Ciao, duniziani.